buongiorno dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito non ci dobbiamo stancare mai di ripetere riascoltare e assimilare questa verità profonda dio ha amato il mondo dio lo ama e lo vuole salvo dio fa di tutto perché il mondo proprio quel mondo che a volte rischiamo di giudicare e di condannare come già perduto quel mondo dio desidera che sia salvato ogni persona che vive che viene in questo mondo per dio è un figlio da salvare da salvare dal peccato dalle tenebre dalla morte perché lo ama se lo ripete il vangelo di giovanni al capitolo tra i versetti 16 21 continuando il discorso di gesù a nicodemo nella notte quando questo fariseo viene a chiedere di comprendere di più del mistero che gesù incarna ed è importantissimo riconoscere qual è lo strumento con cui dio salva il mondo è l'offerta della vita del figlio gesù ma per noi oggi si concretizza nel riconoscere la verità che da luce alla nostra persona dio è luce lo sappiamo fin dal libro della genesi e la luce per noi oggi significa verità fare la verità uscire dalla notte uscire da tutti i sotterfugi nascondimenti tutto ciò che non si può dire a voce alta perché genera vergogna imbarazzo ecco che ha a che fare con ciò che non è di dio che ciò con ciò che non viene da dio la verità è quanto mostra evidentemente dove sta il signore e la verità non è qualcosa che ciascuno si inventa o si attribuisce a se stesso la verità di se stessi non è qualcosa che da soli possiamo determinare indicare e identificare possiamo solo scoprirla perché in realtà la verità di noi stessi è un dono poiché siamo creature di dio poiché siamo figli del padre e ci conosce ci ha creati e gli sa come siamo fatti vivere allora la logica di dio essere salvati e non condannati significa aderire a una verità che ci è proposta e donata che ci precede e ci è consegnata che ci portiamo dentro ma non come una costruzione fatta da noi bensì come qualcosa che è stato voluto da dio nello spirito che abita dentro di noi ecco allora che ogni individualismo ogni egoismo ogni autodeterminazione egocentrica non ha a che vedere con la verità non ha a che vedere con dio la verità è sempre relazione che ci precede gratuitamente e quindi relazione deve diventare anche il nostro donarci nella verità che possiamo scegliere di stare sotto la luce della verità perché altrimenti da soli ci condanniamo al male al peccato e alla morte buona giornata alla giornata